Secondo il co-founder di BitMEX, posteremmo assistere ad un crollo massivo sul Bitcoin e anche sul resto delle criptovalute entro le prossime due settimane. Hi guys, qui è Ryan, il vostro criptoanalista di Piducia, e in questo video voglio aggiornarvi subito con quello che sta succedendo sul mercato delle criptovalute. Infatti, volevo mostrarvi varie ragioni e questa tesi di Arthur Hates, che è il co-founder di BitMEX, ormai ex CEO, e infatti volevo mostrarvi tutti i dati che prenda in considerazione e perché va a motivare un possibile crollo che potrebbe avvenire nel prossimo futuro su Bitcoin, entro le prossime due settimane su Bitcoin in concomitanza con l'Halving. Inoltre, guys, volevo andare a mostrarvi cosa sta succedendo su Bitcoin, perché durante la notte, soprattutto nelle ultime ore, abbiamo assistito ad un dump del prezzo di Bitcoin che ha portato il prezzo dai 73.300 dollari fino ai 69.600 dollari. Prima, guys, però vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciare un like, attivare la campanellina, perché di fondamentale importanza essere iscritti e soprattutto restare on time in questo settore, perché questo può fare la differenza tra essere profittevole oppure perdere soldi sui mercati. Prima, però, partiamo con la visuale sulla Crypto Hitmap di CoinMarketCap. Infatti vediamo come Bitcoin, nelle ultime 24 ore, perde un 2,34%, quotando a un prezzo di 69.400 dollari. Allo stesso tempo, Ethereum sta perdendo un 3,62% negli ultime 24 ore, quotando un prezzo di 3.544 dollari. In linea generale, potete vedere come tutte le caselle, tutte le hitmap, sono in rosso, quasi tutte. E infatti questo ci sta a significare che stiamo perdendo terreno, almeno per ciò che riguarda le ultime 24 ore. Passiamo con il grafico di Bitcoin, partiamo dal 4 ore, perché nella scorsa puntata, non quella di ieri, ma di ieri l'altro, vi dicevo Guys, attenzione, perché stiamo vedendo una compressione di Bitcoin, che qualora dovessimo averla rotta verso l'alto, potevamo vedere una continuazione verso il rialzo, almeno fino ai massimi scorsi. In zona 73.700 dollari. Infatti, guys, vediamo come invece abbiamo rotto verso il rialzo, però è stato un fake out, almeno per adesso, per ciò che riguarda il triangolo di compressione, perché, a secondo un'analisi tecnica, dovevamo invertire il nostro trend già in prossimità di queste candele. Non è stato fatto, vi anticipo già che c'è ancora la possibilità di andare a fare una ripresa, dato che stiamo vedendo una forte buying pressure, almeno su i time frame inferiori, in zona 68.900 dollari, e questo implica il fatto che potremmo vedere un rialzo di Bitcoin, qualora dovesse reggere questo livello di supporto. Bitcoin, tra la chiusura di venerdì 5 aprile e l'apertura di lunedì 7 aprile, ha formato questo gap. Gap che durante questa discesa è stato colmato almeno del 50%, che però questo non va ad invalidare, non va soprattutto ad confermare una chiusura di questo gap. Infatti, vogliamo vedere sul CME un ritracciamento, almeno fino a 68.000, 65 dollari circa, per andare a definire che questo gap sia effettivamente colmato. Andiamo a vedere liquidazioni, perché questa liquidazione di massa che abbiamo visto sull'ultimo euro di Bitcoin ha ristabilito l'ordine sull'exchange liquidation map. Infatti, vedevamo un grafico molto più sbilanciato per ciò che riguarda i cumulative long liquidation leverage rispetto a quelli che vedevamo invece sul cumulative short liquidation leverage. Ciò vuol dire che avevamo più posizioni long rispetto a quelle short a livello di intensità e di volume. Infatti, vediamo come gli short liquidation leverage stiano recuperando terreno, anche se abbiamo dei valori ancora bassi per andare a definire che questa metrica è in equilibrio. Vediamo come si sono comportate nelle ultime 24 ore i Bitcoin spot ETF net inflow. Ciò vuol dire gli inflow sul mercato delle crypto allote dai Bitcoin ETF. Abbiamo avuto nella giornata di ieri, 9 aprile, un outflow di circa 19,4 milioni dollari. In pratica abbiamo avuto una leggera perdita. Guys, arrivate fino alla fine di questo video perché ho una sorpresa per voi, ho una mystery box per tutti quelli che si iscrivono a Bing X. Comunque, prima però volevo mostrarvi le news. Infatti, vediamo come diverse Chinese institutions abbiano presentato presso la SEC di Hong Kong l'application per un Bitcoin ETF. Infatti, vediamo come Harvest Fund, che è uno dei più importanti hedge fund cinesi che gestisce i 230 billion dollar e China Souter Fund, che gestisce i 284 billion dollar abbiano presentato le proprie application. Infatti, sempre più istituzioni stanno prendendo esempio dalle istituzioni americane per entrare nella corsa degli spot ETF, anche se non direttamente sul suolo americano, ma ovviamente attraverso l'app per eccellenza delle criptovalute asiatico, ovvero Hong Kong. Come vi dicevo nell'intro, guys, secondo Arthur Hayes, il co-founder di BitMEX, potremmo assistere ad un BTC and crypto crash nelle prossime due settimane. Questo è dovuto a due fattori principali, come per esempio il declino di liquidità causato dalle tasse, qui stiamo parlando sempre di zona US, quantitative tightening e il rialzo dei TGA balances, che per chi non lo sapesse stiamo parlando dei treasury general account balance. Stiamo parlando di metriche molto importanti in gestione diretta dalla Fed, ovvero la banca centrale americana. Volevo mostrarvi questo grafico on-chain. Infatti vediamo come se prendiamo in considerazione il VDD multiple, abbiamo raggiunto un livello da pre-bull market. Come faccio a definire questo fattore? Perché durante il 2013 abbiamo visto questo rialzo di questa metrica, dove poi a cavallo dell'albing, dopo un ritracciamento della pre-section di Bitcoin, abbiamo assistito ad una salita di questa metrica, definitiva che poi ha confermato il top di mercato. Abbiamo visto uno scenario simile tra il 2017 e il 2018. Un altro scenario simile, però soltanto ad un picco di forte importanza e non più due. Nel 2021, ciò vuol dire nella scorso circolo di albing, infatti vediamo come siamo arrivati all'incirca poco sotto i 50.000 dollari, per poi fare un ritracciamento e poi andare a effettuare i massimi effettivi. E siamo a dei livelli molto importanti anche questa volta. C'è una cosa che accomuna questa metrica, ovvero è il ritracciamento, anche se non di forte importanza, dopo aver toccato questi massimi. Quindi, guys, fate molta attenzione perché secondo anche questa metrica potremmo vedere un ritracciamento a cavallo dell'albing. Come promesso per tutti quelli che sono arrivati fino alla fine di questo video, vi ricordo che c'è la possibilità di ricevere una mystery box per tutti quelli che si iscrivono attraverso il link che lascio qui sotto nei box. Infatti avete la possibilità di vincere fino a un Bitcoin. Infatti ricevete una mystery box completando un volume trading cumulativo sul futures pari a 10.000 USDT. Guys, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Avete anche il 20% di sconto sulle trading fees. Da Ryan è tutto. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanellina. Da Ryan è tutto. Ci vediamo domani. Bye.